Incontriamo Danilo Lombardo, founder e managing partner. Come nasce questo studio? Lo studio ormai nasce da quasi 20 anni, da un'idea che io ho maturato durante la mia pratica forense presso lo studio di un importante professore universitario, nel quale collaboravo con professionisti di altissimo livello e in quel momento durante la mia preparazione mi sono reso conto dell'importanza di avere ciascuno una competenza specifica. Ho cercato nella mia carriera di replicare un tipo di studio che avesse queste caratteristiche, cioè che riunisse sotto la stessa etichetta più professionisti, ciascuno altamente competente e ciascuno con una competenza verticale in una determinata materia. A proposito di materie, in questo momento quali sono quelle più richieste dal mercato?